Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Noi dobbiamo mettere benzina nel motore della nostra economia, ma dobbiamo mettere il carburante giusto, perché se mettiamo invece un carburante di bassa qualità, il motore non riparte, non si riaccende nemmeno. Perché l'Italia, non dimentichiamoci, è un paese che ha tanti problemi, ma è un paese che ha una straordinaria creatività, capacità di lavoro e capacità di fare impresa. Ottimista il Vice Ministro dell'Economia, Antonio Misiani, sulle prospettive della nostra economia. L'incontro telematico è stato introdotto dal prefetto di Sondio, Salvatore Pasquariello, che ha paragonato questa pandemia alla Seconda Guerra Mondiale. Secondo alcuni economisti, questi due mesi di crisi hanno determinato danni più gravi di quelli prodotti dalla Seconda Guerra Mondiale, che aveva causato 50 milioni di morti ed era durata 5 anni. Manovra economica messa in campo dal governo per affrontare il dopo-lockdown e previsioni di ripresa post-Covid-19, i temi cardine della videoconferenza organizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, a cui hanno preso parte, oltre al senatore al prefetto, il provveditore Fabio Molinari, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Augusta Celada, e i ragazzi dell'Istituto Einaudi. Un'Italia che in questa fase di transizione è chiamata ad affrontare sfide cruciali per ridisegnare il proprio orizzonte sociale ed economico. La pandemia, vista anche come occasione per cambiare e porre rimedio agli aspetti che non andavano, sarà necessario adottare nuovi modelli economici. Noi non dobbiamo tornare alla normalità della fase precedente dell'epidemia, perché era quella normalità il problema. Il lockdown è servito anche a farci aprire gli occhi sulle numerose disuguaglianze presenti nel nostro sistema, fin qui ignorate o sottovalutate. Quando a inizio marzo abbiamo deciso di chiudere il paese, l'Italia aveva la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, non tutti, ma non aveva assolutamente nulla per gli autonomi, per gli artigiani, per i commercianti. A un certo punto abbiamo chiesto agli artigiani e commercianti di bloccare la loro attività, abbiamo dovuto costruire da zero una forma di sostegno che prima non c'era. Una misura di sostegno rivolta a tutti deve essere un tema di lavoro per i prossimi anni, gravi le pecche evidenziate dalla rete di protezione sociale. Lo Stato, secondo lo senatore, ha il dovere di aiutare e proteggere le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, con una serie di strumenti, quali l'indenità di disoccupazione, il reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno. L'Italia, altro cambiamento che dobbiamo fare rispetto al passato, deve investire molto di più sul sistema sanitario, ma anche sulla ricerca scientifica. Noi oggi investiamo un terzo in meno rispetto alla media degli altri paesi europei. La scuola ai tempi del coronavirus si era inventata, introducendo la didattica online. Nonostante una diversa modalità di apprendimento e la situazione di enorme difficoltà, il sistema scolastico ha dato una risposta straordinaria, adattandosi a un mondo completamente nuovo. Questa mattina il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio, Fabio Molinari, ha inviato agli studenti, alle famiglie, alle istituzioni, a tutto l'universo scolastico, i saluti di fine anno, affermando che l'istruzione della provincia di Sondrio ha cercato di dare il meglio di sé e di non abbandonare nessuno, nonostante la situazione di totale emergenza verificatasi nella seconda parte dell'anno.